Devo dire che il Teramo ha giocato molto bene quindi non ci possiamo lamentare come ha giocato la squadra quindi credo che ci manca ancora uno o due punti, speriamo che in queste quattro partite riusciremo a poterle fare e a metterci fuori da questa zona un attimo pericoloso. A noi non abbiamo niente da perdere con quelle due partite, ci raggioceremo con tutti e due vedendo quello che sta succedendo, un sacco di pareggi, speriamo che possiamo anche lì a prendere quel punto che ci darà quella tranquillità che ci serve. Ho visto una grande squadra, ho visto le quattro giocatori su tutti veramente primeggiare e credo che abbia una buona squadra e sicuramente se avessimo iniziato con questa squadra oggi non staremmo qui a parlare di un punto in più o in meno, ma sicuramente avremmo qualche punto in più e quindi zona playoff. Sì, Maurizio è così e quindi non è una questione di contratti ma è giusto quello che dice Maurizio quindi però prima pensiamo a salvarci, rimanere con i piedi per terra, andare domenica a Portenone e cacciare tutto quello che dobbiamo cacciare, tutte le gocce di sudore che ci possono rimanere dentro di noi e cercare di fare punti.